Un nuovo accordo finalizzato alla promozione del territorio e in particolare delle aree interne dei piccoli centri come proposta turistica di grande pregio è stato sottoscritto dalla comunità montana Vallo di Diano e da UMPLI, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, sezione di Salerno. Nei giorni scorsi l'ente montano presieduto da Francesco Cavallone insieme al referente di zona dell'UMPLI, il presidente della Proloco di Sant'Arsenio, Michele Marmo, hanno dato il via ad una nuova collaborazione attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa finalizzato a sostenere insieme il grande patrimonio culturale dell'Italia cosiddetta minore, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree interne della provincia salernitana. Nell'accordo sottoscritto dal presidente Cavallone e dal referente UMPLI Marmo viene stabilito che due volte all'anno saranno organizzati tavoli di concertazione per condividere idee e progetti finalizzati alla valorizzazione turistica e culturale del territorio. L'iniziativa, fortemente voluta dall'assessore al turismo dell'ente montano Antonio Pagliarulo, vedrà da un lato l'UMPLI Salerno che si impegna, attraverso le Proloco affiliate e l'opera dei propri associati e degli eventuali ragazzi di servizio civile universale, a collaborare con la comunità montana su tematiche relative alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio turistico locale, con particolare attenzione a quello gastronomico e naturalistico, evidenziando il ruolo e le attività realizzate dall'ente montano all'interno del territorio di competenza. La comunità montana, invece, dal canto suo, si impegna a rendere disponibile tutta la propria conoscenza ed esperienza nell'organizzazione turistica e a mettere a disposizione delle Proloco del Vallo di Diano una sezione del proprio portale dedicata alle loro attività di promozione anche attraverso i propri canali social. Stiamo cercando, spiega Antonio Pagliarulo, di mettere insieme tutti gli operatori locali che si occupano di turismo. La convenzione, appena stipulata, ci permette di programmare gli eventi dei singoli territori, avvalendoci del saper fare delle Proloco che da sempre propongono eventi autentici ed attrattivi in tutti i periodi dell'anno, in special modo d'estate. Siamo grati all'UMPLI per la collaborazione, continua Antonio Pagliarulo, convinti che da iniziative concertate come questa si arriverà ad un'offerta turistica completa e variegata, in grado di svolgere un ruolo da protagonista nell'economia del territorio.